vediamo come far partire il nostro firewall checkpoint come vedi al momento è tutto spento io clicco qui e l'accendo il procedimento è uguale anche sull'appliance reale quindi sull'hardware una volta che è partito apro la console e attendo che finisca il boot ok è quasi terminato il boot a questo punto andremo a configurare l'indirizzo IP per avere l'accesso via il web browser e poi altre cosette che vedremo più avanti quindi la password default è admin admin una volta qui facciamo questa semplicissima operazione show configuration configuration e si preme invio e scorriamo fino in fondo come vedi qui c'è scritto set static root default next stop la copiamo tutta questa riga qui e poi con cliccando con il tasto destro del mouse vedi che ci viene riportata qua io qui la cambio metto 0.1 che è il mio root reale e premo invio poi qui tolgo la default root che checkpoint mi installa by default e metto off secondo step se scorriamo un pochino verso l'alto vediamo set interface ethernet 0 ipv4 address eccetera stessa cosa la seleziono tutta clicco con il tasto destro e gli vado ad assegnare un indirizzo ip in questo caso 200 ok adesso proviamo ad aprire la gui 0 200 e controlliamo se funziona molto probabilmente l'antivirus che da fastidio un attimo solo l'antivirus se non dovresti essere in grado di aprirla devi momentaneamente disattivare l'antivirus poi qui dico ok accetta e come vedi ora qui ho già admin e la password admin che di default e ho la web gui questa è la prima installazione chiaramente quindi si preme next next qui è la password che andrò a settare come admin 123 admin 123 e premiamo avanti questo va bene così la ethernet 1 che al momento c'è il computer collegato io la vado ad abilitare e vado ad assegnare l'indirizzo 2.1 che poi sarà il mio gateway 255 255 2550 next qui chiaramente l'host name che io chiamerò crazy checkpoint domain domain è opzionale crazy net dot local primary dns server vado a inserire il dns di cloudfare e avanti qui è up to you come preferisci se impostarlo manuale nel mio caso va bene oppure se usare un server ntp next e next questo lo lasciamo tutto di default e next è ancora una volta next next send checkpoint improve no questo lo deseleziono e finish a questo punto partirà la configurazione che richiede un pochino di tempo dipende dalla velocità dallo spazio che hai sulla sul checkpoint in questo caso sulla macchina virtuale ci sono alcuni fattori comunque può richiedere anche 10 minuti poi dopo una volta terminato andremo a vedere cosa possiamo fare ok una volta terminato ti apparirà questo pop up dove ti dice che il firewall verrà riavviato in 45 44 secondi io premo ok e il firewall verrà riavviato come si può vedere anche dalla console anche questo procedimento richiederà da pochi secondi a quasi un minuto dipende sempre dalle prestazioni della macchina virtuale però comunque in genere non ci mette tantissimo tempo aspettiamo un attimo e guardiamo che cosa succede una volta completato il boot ci apparirà la console così che non ci serve più e poi ovviamente appare la nostra pop up dove ci chiede l'username e la password admin 123 è la mia password quindi premo login e vediamo molto probabilmente memorizzata da ok una volta che siamo qui diciamo non possiamo fare proprio molto molto abbiamo network interface che abbiamo già configurato prima sono tutte e due app poi possiamo impostare il dhcp server se vogliamo il time poi che cosa abbiamo il proxy dhcp server o relay ip static route per esempio che abbiamo già impostato però all'inizio possiamo impostare il bgp eccetera eccetera ora andiamo qua su overview e qua su in alto vedi manager 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 software blades using smart console devi cliccare qui su download nel mio caso io l'ho già fatto prima e ho già la smart console una volta terminata l'installazione iniziale devi aspettare qualche minuto potrebbero volerci anche 5 10 minuti una volta che hai come abbiamo detto in precedenza scaricato il software quindi lo smart la smart console installata andiamo ad aprirla ed eccola qua a questo punto sempre dopo aver aspettato aspettato questi 5 10 minuti perché dobbiamo dargli il tempo di caricare tutti i servizi vado a digitare la mia password e vediamo la smart console questa è solo la configurazione iniziale molto probabilmente riceverò un errore che è eccolo qui che mi dice che non ho abbastanza spazio perché non ho allocato molto spazio alla macchina virtuale per il checkpoint ma per il momento ci può andare bene anche così torniamo un attimo alla topologia vado qui sul computer e vado a impostare l'indirizzo ip 2.10 per esempio slash 24 faccio ping e vado a pingare il mio gateway cioè questa interfaccia punto 2 punto 1 meno t e vedremo che non funziona ok a questo punto andiamo qui allora per prima cosa dovremmo definire le interfacce quella interna e quella esterna allora come facciamo andiamo qui su gateways e services clicchiamo due volte sul nostro firewall quindi crazy checkpoint andiamo su network management get interfaces get interfaces with topology diciamo di sì e qui lui ci fa vedere 0200 che è l'outside e 2.1 che è l'inside io gli dico accetta e vediamo cosa ci propone eth0 esternal e va bene e this is the network che è l'interno ok a questo punto io premo ok il nostro ping continua a non andare vediamogli un attimo smart console ogni tanto vedi si pianta ma è normale quindi il nostro ping continua a non andare non va perché c'è questa qui questa rule di default che è drop tutto allora abbiamo due scelte o creiamo una policy sopra a questa clean up dove gli diciamo di accettare il ping quindi l'ICMP oppure possiamo fare così andiamo qua su in alto a sinistra e clicchiamo qui poi andiamo a cercare su global properties poi qui dobbiamo cercare accept ICMP request e premiamo ok poi facciamo installa policy sempre qui in alto e clicco ok puoi anche fare publish da qui eh se tu vuoi a questo punto fammi prendere la console del computer del ping un attimo solo che ora gli dico di installarle e guardiamo qui in basso invece in basso qui a sinistra trovi lo stato della policy quanto gli manca insomma a finire ed ecco il nostro ping che funziona quindi abbiamo abilitato il ping ovviamente il NAT non è configurato perché abbiamo fatto appena partire questo firewall quindi manca il NAT se è per quello manca anche le policy se ti interessano altri video sul checkpoint lasciami un messaggio e farò altri video su per esempio come si configura il NAT come si gestiscono le policy eccetera eccetera tieni in mente che il checkpoint a differenza degli altri firewall quindi per esempio Cisco FortiGate Palo Alto eccetera il checkpoint funziona ad oggetti è una concezione un po' diversa in un certo senso a volte è anche migliore e come tutte le cose a volte ha delle pecche tuttavia questa è la configurazione iniziale ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo